Grazie, la sua soddisfazione è il nostro miglior premio. Grazie, la sua soddisfazione è il nostro miglior premio. La sua soddisfazione è il nostro miglior premio. Grazie, la sua soddisfazione è il nostro miglior premio. Ce l'ha una scopa? Per farmi cosa? Siccome mi rimasto il sedere libero, già che ci sono, do una pulitina all'ambiente.